Consigliere regionale Michele Mazzarano del Partito Democratico, io capisco che anche i matrimoni più belli finiscono, però qui stanno volando gli stracci. Sembra quasi che Melucci abbia governato da solo per sette anni, abbia amministrato da solo per sette anni e il PD non ci fosse. Allora quando io dico che il PD vuole nascondere le sue responsabilità politiche scaricando tutto su Rinaldo Melucci, mi sembra un discorso logico. Se avete sbagliato, e per me Melucci ha sbagliato, avete sbagliato insieme? Se lei vuole che io gli dica che abbiamo sbagliato glielo dico. Deve dire quello che crede. Io credo che il problema si è creato nel momento in cui il sindaco di Taranto ha di fatto tradito il mandato elettorale, che era un mandato elettorale preciso. Perché si è messo contro Emiliano? No, perché era un mandato elettorale preciso, che aveva un programma preciso, una coalizione precisa. Quando sono state cambiate queste carte in tavola, che in politica sono le carte fondamentali, è chiaro che viene messo. Su questo posso essere d'accordo. Tutto in discussione. del Consiglio Comunale, è un partito che non ha preso neanche un punto. E siamo d'accordo. Lei può capire che l'irritazione non è del PD. Su questo aspetto posso essere d'accordo, però quello che io non riesco a comprendere, mi irrita anche come cittadino, è dire che la città è sporchissima, dire che la città è invivibile. Scusate, ma la città non è che è diventata invivibile da un mese, da quando voi vi siete staccati da Melucci. Se la città era invivibile, è invivibile da lunga pezza, ed era invivibile anche con i vostri assessori. E c'erano delle criticità che vanno avanti da tempo, questo è evidente. Ancarelli chi l'ha messo? Io o voi? Adesso noi siamo però nelle condizioni di dire che, essendo cambiate completamente tutte le carte in tavola, bisogna ritornare, se possibile, agli elettori. Concludo dicendo, lo sai, ci abbiamo detto che io sono molto diretto, ripartiamo da Taranto, dopo aver amministrato sette anni con Melucci, è come volersi scrollare la polvere e dire dimentichiamoci il passato, rifarsi una verginità politica, non è coerente. Significa che in un momento in cui prevalgono opportunismi, in un momento in cui prevalgono trasformismi, è sempre giusto mettere al centro i problemi della comunità.